Un viaggio noioli della Campania ha preso il via al Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli per iniziativa Oro Liquido, l'eccellenza incontra l'arte, promosso a Napoli Poste dal Museo che prosegue con appuntamenti ogni primo sabato del mese. Una location eccezionale dove al termine della visita alla mostra in corso fuoco e passione un percorso infodegustativo ha condotti turisti in ulteriori tour nei prodotti e nei territori della Campania. Il primo assaggio ha avuto un'ospite eccezione, l'olio occidentano che ha vinto nei giorni scorsi il primo premio quale miglior olio, categoria fruttato medio della regione, il primo olio prodotto da un'azienda di Morigerati, un olio dal profumo dei sapori che ricorda la terra al confine con la Basilicata dove un'oase ambientale Morigerati preserva un pezzo della nostra regione. Ad accompagnare gli assaggi d'olio i ceci di grumo nevano e pane del forno di piazza San Gaetano Napoli, un mix ulteriori semplici prodotti, legumi e farinacci che sono altre gustose pietanze da raccontare a visitatori provenienti da Toscana, Puglia e Lazio che hanno scelto la visita infodegustativa presso il Museo del Tesoro di San Gennaro. A gustare olio, pane e ceci grandi e piccoli che hanno potuto quindi conoscere e assaporare quello che da sempre costituisce l'oro della terra, l'olio nelle sue più genuine caratteristiche, i profumi dell'acilento e gli aromi dell'amaro e piccante. Si prosegue ai primi di febbraio con un'altra visita per conoscere un altro grande olio della Campania.